la storia di questo ritratto è legata a due figure unite da un rapporto di committenza il grande tiziano da un lato e dall'altro l'imperatore carlo quinto il primo è uno dei pochi artisti che hanno avuto un ruolo veramente incisivo nell'evoluzione dell'arte introducendo un nuovo modo di maneggiare i colori di mettersi in relazione con le figure che stanno dentro l'opera di stendere i colori sulla tela il secondo è una delle più importanti figure della storia d'europa incoronato re di spagna ed italia arciduca d'austria e imperatore del sacro romano impero germanico sovrano di un impero talmente vasto ed esteso che gli viene tradizionalmente attribuita l'affermazione il mio regno è tanto vasto che non tramonta mai il sole l'opera rientra in quella categoria chiamata ritratto di stato che nacque e si sviluppò in ambito politico per celebrare e ricordare re e sovrani un tipo di ritratto che esalta l'autorità e la maestà regale qui in particolare viene ricordata un'importante vittoria ottenuta da carlo quinto a nullberg in germania la battaglia fu decisiva nella guerra contro i principi tedeschi che avevano aderito alla riforma protestante riforma che protestava contro la corruzione l'eccessiva ricchezza e i vizi della chiesa di roma tiziano ambienta il ritratto al calar della sera facendo apparire carlo quinto come un eroe solitario sullo sfondo vediamo un paesaggio che si perde all'orizzonte il sorvano ci appare umano e fragile ma guidato da una volontà ferrea protetto dalla splendida corazza e indifferente all'impeto del cavallo che scuote il drappo rosso qui tiziano si ispirò ai monumenti degli imperatori romani a cavallo creando un modello fondamentale per gli artisti delle generazioni dopo la sua da rubens a van dix da rembrandt a velasquez da david a mani carlo quinto aveva chiamato tiziano accanto a sé come pittore di corte riservandogli dei privilegi mai concessi prima un artista pensate che gli venne assegnato un appartamento adiacente a quello del sovrano con possibilità di accesso diretto la fiducia di carlo quinto però fu ben riposta in quanto tiziano con quest'opera fissò la gloria dell'imperatore vittorioso in maniera indelebile sulle pagine della storia una curiosità l'opera venne danneggiata ben due volte mentre asciugava l'aria appena dopo essere stata conclusa cadde a terra spinta dal vento e si rovinò la parte posteriore del cavallo poi ridipinta da un altro pittore nel 1743 il dipinto superò un incendio scoppiato al palazzo di madrid che lasciò però un alone scuro all'estremità inferiore della tela sotto le zampe del cavallo se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao